Benvenuti al sto cazzo di video, comunque cercheremo di fare un sacco di palleggi con la carta igienica cercheremo di stravingere nettamente, ci proveremo fino alla fine, ecco qua Manuel Ciao a tutti ragazzi, ti presenta, col bomber qua, stiamo carichi, dai, cominciamo subito ecco qua, non so, vai, al volo, ecco qua, sì, e un gol è fatto, vai, un altro gol, dica la palla, un altro gol e facciamo, via la carta igienica Alta Ah, si è passata la mano, passata, passata, passata sempre l'altra Oh cazzo, stiamo provando, vai, vai ancora Vai, vai, sei, due, eccoci qua, comunque, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video